Sarà Torino-Sassuolo la finale della 73esima edizione della Via Reggio Cup organizzata dal Centro Giovani Calciatori in programma lunedì alle 15 allo Stadio Ferracci di Torre del Lago. Il Sassuolo dopo aver vinto l'anno scorso la competizione superando in finale la rivelazione dei nigeriani dell'Alex Transfiguration si è qualificata anche per questa 73esima edizione per la finale. Terza volta per i giocatori del Sassuolo che hanno vinto anche nel 2017. Al buon riposo hanno superato meritatamente la Fiorentina con il punteggio di 3-1 grazie alle reti di Loporcaro al settimo del primo tempo nella ripresa di Ajagi al diciannovesimo e poi un Mata alla mezz'ora per Iviola o Fama al trentasesimo su rigore. Per quanto riguarda l'altra semifinale il Torino ha superato meritatamente il Bologna 1-0 grazie al gol di Capaci al quarantunesimo del primo tempo. Inutile il forcing finale controllato dalla retroguardia granata da parte degli avversari. Di fronte in finale si trovano adesso due buone squadre. Il Torino ha vinto il torneo l'ultima volta nel 1998.